Chi è orator 18? Non è facile esprimere alcuni concetti. Quelli che non possono essere discusse se non viene discriminato chi le dice. Per questo ho dovuto mascherare la mia voce e creare questo pseudo natura che cerca di rispecchiare tutti coloro che vorrebbero avere voce in questo periodo. Un periodo di superficialità e tutt'olocchio. E quindi un foglio, una penna, un argomento, ma soprattutto questa voce che cerca di restare alta e calda per scaldare l'animo di chi vuole passare delle pune ore insieme. Ebbene, tutto questo accadrà grazie a chi si sentirà parte di ciò che esprimono, creare un posto in cui tutt'olocchio attenzione, davanti rispondendo, davanti rispondendo, davanti rispondendo. Grazie a tutti.